Ciao amici di Socialintech, eccoci ad una video recensione riguardo di un Gimbal, questo è dell'azienda Goodsen, precisamente Moza, il Mini MX, l'ultimissimo di questa marca, ma andiamo a vederlo un po' più nel dettaglio. Ed eccoci quindi con questo Gimbal di Moza, il Mini MX, con la sua scatola, con questa apertura a scrigno, al suo interno abbiamo ovviamente quelle che sono le istruzioni con il codice QR per andare a prendere l'applicazione, al suo interno troviamo sempre un po' di manualistica, come ovvio che sia, eccola qui, poi abbiamo da questa parte il cavetto che è un cavo micro, scusatemi, un Type-C e USB-A e allo stesso tempo abbiamo anche il cavetto per poterlo legare al polso e poi abbiamo ovviamente qua il Gimbal stesso, eccolo qui, poi andiamola a vedere nel dettaglio, però abbiamo una piccola scatolina che andiamo a sollevare, eccola qui, al suo interno troveremo sicuramente altri accessori, ecco qua. Allora, troviamo infatti l'utilissimo e comodissimo treppiedi, sempre ovviamente di Moza, proprio per quanto riguarda, ed eccola qua, il marchio, per quanto riguarda la possibilità di poter annettere il Gimbal anche ad un treppiedi in questo caso e poi abbiamo una comodissima custodietta per poterlo portare con noi, in questo caso è morbida, però può essere pur sempre comoda. Andiamo a mettere da parte il tutto, anche il suo treppiede. Allora, ecco qua il Gimbal. Allora, il Gimbal intanto per essere aperto, come indica in questo caso questa iconcina, deve essere aperto andando a fare uno slide, ok? Fate in questo modo tenendo fermo quello che è il braccio, perché come avete visto, se no si muove. Tenendo fermo il tutto andiamo a fare questo, cosa qui, quindi due scatti ed ecco qua l'apertura del Gimbal. In questo caso abbiamo il braccio, questo qui è quello principale che è mobile, invece in questo caso abbiamo gli altri due braccetti che sono invece con il blocco, come potete vedere. In questo caso andiamo invece a sbloccarli, eccoli qua, eccolo qua, anche in questo caso, quindi abbiamo i due braccetti mobili, invece questo non è mobile, è quello principale, ok? Poi abbiamo, come potete osservare, il joystick, quello classico per muovere le braccia, poi abbiamo i due tasti per il zoom in avanti, zoom indietro, l'accensione e spegnimento, ma allo stesso tempo anche il passaggio tra una modalità e un'altra, un comodissimo led per indicare quella che è la batteria, a destra abbiamo l'uscita Type-C, come abbiamo potuto vedere, che ha il suo cavetto in dotazione per ricaricarlo, invece su questa parte non abbiamo niente, e di dietro invece abbiamo il classico grilletto, però ha una particolarità questo Gimbal, come potete vedere che assomiglia un pochino a quello della DJI, anche se quello della DJI ce l'ha esterno qua il braccio, però in questo caso noi per andare ad inserire il treppiedi non lo andiamo a inserire sotto alla maniglia principale, ma andiamo direttamente sotto al braccio che è quello principale che gira, e quindi in questo caso andiamo ad inserire il tutto in questo modo così, molto molto comodo secondo me anche per poter utilizzarlo in questo modo qui, poter avere una salda impugnatura e non avere un peso qui sotto, ma un peso irrisorio comunque sotto direttamente al braccio. Come vi ho detto è possibile utilizzarlo ovviamente con gli smartphone, e in questo caso ci sono veramente anche gli usi con smartphone decisamente più grandi, però per quanto riguarda invece l'uso con action camera dovete utilizzare un adattatore che si mette qui e poi aggancia l'action camera. Che dire, è un prodotto molto comodo perché è leggerissimo da tenere in mano, rispetto ad altri gimbal ritengo che sia anche molto molto leggero, molto pratico, i materiali sono di una plastica rigida buona, l'impugnatura è ben salda e che dire, è veramente pratico, comodo, secondo me è un ottimo acquisto, poi questa è un'azienda tra le altre anch'essa importante nel riguardo ovviamente dei gimbal, quindi che dire, se vi è piaciuta la recensione mettete un mi piace, altrimenti sotto potete tranquillamente commentare qualora abbiate dei quesiti, delle domande da farci, ovviamente mettete anche la campanella sotto attiva se volete attivare quelle che sono le notifiche, quando ci sono dei nostri video e che dire ragazzi, un saluto da Socialintech, ciao!